mi piace l'odore del napalm la mattina sa di vittoria ok ben ritrovati amici e amiche ora penso che tutti abbiano colto questa citazione tratta da apocalips now un film del 1979 diretto da francis ford coppola sul perché ho iniziato questa citazione beh è piuttosto ovvio dato che oltre a marlon brando martin sheen è il contesto della guerra del vietnam l'altro assoluto protagonista delle scene del film è senza ombra di dubbio l'u h1 yui o origine originariamente chiamato irochi questo elicottero è leggenda detiene in assoluto la maggiore presenza in film documentari serie televisive cartoni animati e fumetti più di ogni altro aereo o elicottero mai esistito quindi oggi vediamo di ricostruire la sua storia il suo impiego operativo e molti dei fatti cinematografici e non che lo caratterizzano come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale è gratis qui in basso a sinistra c'è il bottoncino per farlo all'inizio del ventesimo secolo con gli studi sulle eliche e sui motori nasce anche l'idea dell'elicottero in senso moderno cioè inteso come una macchina abbastanza grande da poter sollevare una persona in volo uno dei primi pionieri in america fu igor sikoski nato a kiev ed emigrato in america negli anni 20 e che con le sue idee realizzò una macchina dalla rotante in grado di sollevarsi in volo contemporaneamente un altro ingegnere arthur young aveva delle intuizioni molto importanti che miglioravano ulteriormente la stabilità della rotante con l'introduzione di cerniere e smorsatori che poi avrebbero consentito il cambio del passo dell'elica durante i cicli di rotazione assieme al piatto oscillante per una configurazione che è praticamente rimasta identica e invariata a quella che vediamo ancora oggi sugli elicotteri moderni nel 1941 questo giovane ingegnere insieme al suo collega kelly presentarono il loro progetto a lawrence di bell fondatore della bell aircraft company che oggi molti associano alla produzione di elicotteri ma in realtà al tempo era un colosso che sfornava in continuazione aeroplani per citarne giusto qualcuno il p39 air cobra che abbiamo utilizzato anche in italia per un brevissimo periodo nel 1943 e il p29 super fortress la fortezza volante che poi sgancerà le due bombe atomiche sul giappone senza escludere il bell x1 il primo aereo supersonico americano e i primi prototipi di studio per il modulo di atterraggio lunare l'x14 che sarà poi il precursore dell'idea dell'arrier e poi per esempio il primo zaino volante e finalmente tutta una sfissa di elicotteri storici e quasi altrettanto famosi come il bell 47 e i convertiplani sperimentali che poi porteranno alla collaborazione con la boeing per il più moderno v 22 in tutti gli anni a venire in america bell e sikoski poi competeranno per bandi di gare nella realizzazione degli elicotteri più famosi e importanti della storia dell'aviazione questo ovviamente finché non si affaceranno sulla scena internazionale altre aziende una fra queste la augusta westland oggi leonardo ma finita questa digressione torniamo a questi due ingegneri nel 1941 presentarono un piccolo modello che aveva tutte le caratteristiche di un moderno elicottero un rotore principale è uno più piccolo di coda capace di decollare e atterrare con precisione fino su una scrivania quindi potete immaginare la reazione di bell a questa dimostrazione che vuole subito realizzare una versione non in scala di questo modello denominato bell 30 questo elicottero fece diversi voli nei mesi successivi fino a un crash in fase di atterraggio ma nel 1943 una versione migliorata del secondo prototipo già biposto prendeva il volo e si dimostrò valido e fattibile precursore di una possibile produzione su larga scala tutto questo avveniva mentre la guerra in europa infuriava e altri paesi come la germania avevano considerato l'idea della rotante però solo da un punto di vista sperimentale senza andare oltre la belle company che nel frattempo come ho detto continuava a produrre aeroplani ebbe la visione di insistere su questa idea riconoscendo nell'enorme potenzialità la possibilità di atterrare verticalmente non avere bisogno di piste e le sue infinite possibilità di utilizzo il terzo modello così prendeva forma il modello 47 che avveniva dopo una tutta una fase di prototipi che dimostravano la fattibilità del progetto in tantissimi voli in giro per gli stati uniti questo elicottero fu un enorme successo diventato il primo vero elicottero certificato della storia e soprattutto fu adottato dall'aviazione e dalla marina degli stati uniti in questi anni dal 1950 al 1953 versioni modificate di questo elicottero furono usate dall'esercito degli stati uniti durante la guerra di corea nel ruolo di ricognitori ma più importante come unità di soccorso ed evacuazione medica queste applicazioni in un teatro di guerra diedero ulteriore slancio all'idea dell'elicottero come strumento fondamentale per la mobilitazione l'estrazione dei soldati e il supporto alle loro operazioni così dopo la guerra di corea il governo degli stati uniti emise un bando di gara per un nuovo elicottero abbastanza grande da portare feriti all'interno della fusoliera e allo stesso tempo piccolo abbastanza leggero per me per mettergli atterraggi ovunque anche fra piccole radure fra gli alberi il progresso tecnologico si rilevò particolarmente determinante poiché i motori a pistoni fino ad allora non permettevano prestazioni esaltanti per gli elicotteri in particolare per la loro pesantezza e capirete che il rapporto spinta peso per una macchina pensata per sollevarsi verticalmente è di vitale importanza per intenderci per far volare oggi un ultraleggero basta un piccolo motore da 60 cavalli giù di lì per un elicottero sempre ultraleggero come minimo ne servono il doppio tipo 140 cavalli quindi come si dice è una specie di collo di bottiglia più grande il motore più potente ma pesa allo stesso tempo la soluzione a questo problema fu trovata con l'utilizzo di una turbina a gas che permettevano a considerevole riduzione del peso e potenze anche superiori questo motore poi con il suo albero diretto poteva essere montato sopra la fusuliera offrendo così maggiore spazio all'interno utilizzabile e così la bell sviluppava il primo elicottero spinto da una turbina l'xha 40 che poi diventerà u h 01 per la classificazione militare dove appunto la u sta per utility e la h per helicopter il bel 205 stesso elicottero ma con classificazione poi per l'uso civile quindi u h 1 per denominazione militare 205 bel per l'uso civile il design di questo elicottero fu un successo e i militari ordinarono subito i primi lotti di produzione originariamente denominato i rochi presto venne affettuosamente chiamato yui dove appunto si affermava una sorta di slang militare dove la lettera h e la u e la 1 che sembravano i lo facevano chiamare yui tra l'altro questo nickname è diventato quello più famoso ma l'origine di questo nickname è anche un poco controversa perché molti sostengono che il nome yui provenga da dai tre paperi qui qua qua i tre nipotini di paperino il primo inglese si chiama proprio yui secondo the way e il terzo yui su perché non chiedete me lo posso ipotizzare a causa della forma che ricorda un papero oppure del loro cappellino non si sa la versione ufficiale comunque parla delle lettere h u e la i di 1 yui l'elicottero aveva caratteristiche e dimensioni interessanti equipaggiato con un motore lycoming t 5 2 da 1.400 cavalli di potenza sull'albero e un equipaggio di due uomini per un peso complessivo di 4.309 chilogrammi e un carico massimo che sfiorava in 1980 chili una velocità di crociera compresa fra i 160 e 260 220 chilometri orari con un'autonomia di 2 ore e 15 minuti e aveva una capacità enorme di caricarsi fino a 13 passeggeri nel 1951 così gli us army pensò immediatamente di integrare questi elicotteri nell'attivo e quindi si rese necessario studiare una vera e propria nuova strategia per l'impiego in termini di mobilità aerea a questo scopo nacque una vera e propria nuova categoria di piloti che rappresenteranno poi una sorta di cavalleria dell'aria con funzioni di ricognizione attacco al suolo trasporto di uomini e materiali ed evacuazione medica questi piloti ricevettero una formazione diversa diciamo così dai piloti tradizionali perché pilotare un elicottero è diverso in un certo senso da un certo punto di vista della disposizione dei comandi di volo non sembra molto diverso da un aereo ma la funzione di questi comandi è diversa sull'elicottero si usano molto di più i comandi soprattutto i piedi mentre su un aereo a elica i pedali hanno una funzione limitata a certe condizioni di volo sui jet per esempio non si usano praticamente mai se no nelle operazioni a terra mentre sull'elicottero i pedali hanno un ruolo fondamentale di controllare il passo del piccolo rotore di coda e vanno continuamente azionati specialmente nelle condizioni critiche di decollo atterraggio hovering e tutte le transazioni mentre la cloche governa il ciclico azionando il passo dell'elica nel momento in cui la singola pala si trova nel punto esatto per dare un impulso a picchiare cabrare o inclinarsi a destra o a sinistra con un effetto che per certi versi è paragonabile agli assi di rollio e beccheggio la manetta per dirla in termini da pilota di aeroplani sull'elicottero in realtà non si tocca cioè quando si accende l'elicottero i giri motore si portano a regime e non si toccano più mentre la leva posta a sinistra della cloche che su un aereo tradizionale agisce sulla potenza del motore in realtà sull'elicottero aziona il collettivo che è il passo di tutte le pale del rotore insieme dando di fatto all'elicottero la possibilità di salire e scendere verticalmente o di sostenersi in volo in un equilibrio dinamico quindi da un certo punto di vista le azioni del pilota di un elicottero sono molto più frequenti rispetto a quelle di un pilota di aeroplano e tutte queste tutte quanti queste azioni di mano destra mano sinistra e piedi concorrono all'obiettivo di raggiungere un equilibrio dinamico momento per momento quindi per questo la formazione di questi piloti fu diversa al tempo a partire dal 1951 allo stesso tempo gli organi militari statunitensi facevano pressioni perché si realizzasse un enorme numero di questi elicotteri in brevissimo tempo forzando così la belle a condividere i progetti di costruzione e le licenze e le linee di produzione stessa con molte altre aziende il primo impiego dello yui fu così nella guerra del vietnam con i primi reparti subito coinvolti nella difficile situazione creata sia nel vietnam del sud che poi arriverà con la popolazione civile intrappolata nella difesa di saigon volare sulla foresta del vietnam per quei piloti si dimostrò una sfida senza precedenti con elicotteri spesso portati ai limiti con un peso eccessivo a causa delle armi delle munizioni o stracaricati di uomini lo yui ovviamente divenne presto un bersaglio facile per tutti i fucili e le armi automatiche dei viet gong e non serve ricordarlo ma essendo una macchina leggera non presentava nessun tipo di blindatura quindi non era a prova neanche di una pistola per intenderci per questi motivi a fornire supporto e autodifendersi furono equipaggiati mitraglieri laterali spesso razzi non guidati e due supporti per mitragliatrici automatiche o a canne rotanti nasceva così la versione della gunship dello yui nel 1965 le prime unità di cavalleria dell'aria composta da quasi 500 elicotteri yui arrivava in vietnam proprio con funzioni di cavalleria sì avete capito bene un'unità in grado di cavalcare sul campo di battaglia ma al posto dei cavalli avrebbe usato gli elicotteri il primo reggimento di nona cavalleria lo squadrone comandato dal colonnello jim stock stock stockton scusate vi mostro giusto una sua foto e prestate attenzione al sigaro e al cappello lui fu praticamente il padre di queste tattiche di cavalleria aerea occupò si occupò personalmente della formazione dei piloti e degli specialisti proprio per non arrivare impreparati al conflitto queste unità usavano degli elicotteri da ricognizione per individuare il nemico una volta acquisita la posizione seguivano tutti gli altri con le gunship che si occupavano di attaccare l'area ma come molti sanno la guerra in vietnam si trasformò presto in una lunga e saguinosa guerra di attrito e guerriglia nella foresta così cambiavano anche le esigenze di impiego di queste unità che si dimostrarono insostituibili nel ruolo di trasporto di viveri e munizioni personale e soprattutto del recupero dei soldati feriti direttamente sul campo di battaglia più di tutti gli altri le unità di evacuazione medica che volarono sullo yui diventano una vera e propria leggenda nel conflitto e vi lascio immaginare per un soldato ferito l'arrivo di questo elicottero significava la fine della guerra è un ritorno a casa per dieci anni fino alla caduta di saigon gli elicotteri e gli equipaggi furono portati ai limiti delle loro possibilità la storia di questo conflitto è lunga da poterla è troppo lunga da poterla raccontare qui oggi così come i fatti e le missioni che hanno coinvolto lo yui sono troppe per poterle menzionare dal 1975 questa macchina poi ha avuto un enorme distribuzione e ulteriore sviluppo e non credo che in questo video riuscirò a menzionare tutte le versioni esistenti i cui limiti sono stati essenzialmente solo nelle capacità di carico intanto poi se dovessi menzionare le nazioni che lo hanno utilizzato vi dico subito che è più facile trovare nazioni che non lo hanno utilizzato e si contano giusto alcune tipo la russia la cina e il vietnam e la corea del nord mentre sono decisamente troppe le nazioni ad averlo avuto e a volarlo ancora oggi l'italia ha avuto la sua versione dello yui per l'aeronautica militare a partire dal 1961 e fino al 1984 con la versione ab 204 b in 43 esemplari di cui due oggi sono al museo di vigna di valle per l'esercito con 48 esemplari dal 63 all 89 e 115 ab 205 costruiti su licenza dalla gusta 27 ab 205 a 85 ab 205 a 1 e 3 ab 205 b costruiti su licenza sempre a partire dal 1966 e sono alcuni ancora attivi fino ad oggi in diverse basi italiane nel 1971 anche nel nostro paese poi entrava in servizio la versione più aggiornata e derivata dalla cellula iniziale del 205 che prendeva il nome di ab 212 realizzata nel nostro paese sempre dalla augusta con un più potente motore a doppia turbina pratt whitney quindi con migliori caratteristiche di volo e di carico utile questa sviluppo da questa versione poi si sviluppò anche il 412 con un motore quadripala anziché bipala l'esercito ne ordinava 19 con i primi voli nel 75 ed ebbero un impiego operativo come collegamento e trasporto tattico e per l'evacuazione medica durante la crisi in bosnia e libano la marina militare con 68 ab 212 per le versioni as w e as u w con equipaggiamenti come radar di scansione di superficie aps superficie scusate aps 705 e sonar di ricerca asq 13b più il flir una telecamera infrarossi proprio elicotteri con funzioni di ricerca per il salvataggio in mare e nella lotta anti sottomarino grazie proprio alla possibilità di lanciare missili e siluri la versione ab 212 e cm sempre per la marina soprannominata gufo per la guerra elettronica con capacità sia offensive che difensive e dotate di una suite di sensori passivi attivi in grado di disturbare i missili o i sensori di puntamento nemici e poi c'è la versione nla che è per l'eliassalto con corazzature aggiuntive un'illuminazione interna compatibile con i visori notturni ed è una versione dedicata per l'infiltrazione e l'estrazione delle parti d'assalto e del reggimento san marco e delle forze speciali ad oggi sono attivi gli ab 212 della marina verranno poi progressivamente sostituiti nuovi elicotteri sh 90 costruiti costruiti in collaborazione fra leonardo eurocopter stork e fokker aerospace anche l'aeronautica ha adottato gli ab 212 nella versione ico che sta per incremento delle capacità operative con funzioni di supporto alla fanteria mitragliatrici laterali e blindature aggiuntive più verricelli di recupero e contromisure elettroniche questi elicotteri del ventunesimo gruppo tigri della 604esima squadriglia di grosseto e della 651esima squadriglia di strana sono stati impiegati in afghanistan con successo in diverse operazioni fornendo supporto alle unità di terra della della coalizione internazionale e i reparti del quindicesimo stormo poi sono specializzati in ricerca e soccorso sono oggi attivi 365 giorni all'anno con decollo entro 30 minuti di giorno e di notte su tutto il territorio nazionale il cui coordinamento è sotto l'autorità del centro coordinamento soccorso del comando operativo forze aeree con distribuzione su tutto il territorio nazionale l'elicottero 212 cesserà il suo impiego operativo presso l'aeronautica militare italiana a partire dal 22 febbraio 2024 e poi ovviamente ci sono tutti gli ab212 dei vigili del fuoco della guardia di finanza di carabinieri eccetera eccetera più quelli civili questi numeri e questi reparti ci danno l'idea di quanto lo iui e le sue versioni successive siano state attive e di importanza nel nostro paese ha operato incessantemente durante i momenti più significativi della storia della nostra repubblica almeno quella moderna intervenendo e seguendo azioni e in partecipazione ai conflitti missioni estere calamità naturali terremoti alluvioni disastri di ogni tipo di causa naturale o umana quindi possiamo certamente dire senza che nessuno si offenda che lo iui in italia ha salvato decisamente molte più vite di quante ne ha portate via quindi vista la storia e lo sviluppo di questo elicottero guardiamo un poco di curiosità che almeno posso conoscere io personalmente avendo conosciuto qualche pilota che lo ha volato o che ho trovato in rete per quanto riguarda le impressioni dei piloti posso dirne due è una macchina formidabile che si guida con il sedere citazione di un amico quando atterri sei più corto di cinque centimetri perché questo faceva riferimento alle vibrazioni che appunto agivano sulla colonna vertebrale e quindi poi c'è tutta la sua partecipazione nei film nelle serie televisive nei cartoni animati il più famoso chiaramente è il film apocalypse now di francis for coppola un fatto interessante è che gli elicotteri di questo film che si vedono nel film erano elicotteri veri di un reparto operativo reale al tempo fra l'altro non c'era la computer grafica quindi è curioso vedere che quelle sequenze furono prese in nelle filippine ed era un reparto realmente operativo in quei giorni che fra l'altro proprio in quei giorni aveva sventato una ribellione per davvero pochi chilometri dalle spiagge in cui si venne poi girato il film ed è anche per questo motivo che nelle sequenze che si vedono nel film sono abbastanza scure perché la crew non voleva che si inquadrassero le insegne dell'aviazione filippina oltre a questo poi lo yui compare in film come platoon we were soldiers dove fra l'altro viene anche documentata la formazione dei piloti e l'impiego della cavalleria dell'aria poi vabbè citiamo anche rambo e fra l'altro anche un film recente school island che ci sono delle belle sequenze quindi se riuscite a recuperarlo poi compare anche in the rock forrest gump e nella serie televisiva e team compare anche in matrix nella trilogia ci sono molti moltissimi altri film serie televisive e cartoni animati è diventato una vera e propria icona del cinema fra l'altro è un elicottero talmente comune che è anche piuttosto facile ed economico da affittare per fare le riprese quindi anche per questo motivo che appare in altri film è proprio una questione economica e con questo siamo in dirittura di arrivo quindi spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti non dimenticate di iscrivervi al canale come sempre un abbraccio